Al Red Hat Open Source del 2014, ImpresaCity incontra Marcello Dagnano, pre-sales manager di HP. HP è una storia di 75 anni a livello mondiale, 50 in Italia, da sempre sposa il tema dell'open source. Qual è il valore riscontrato in questo tipo di tecnologia? Come diceva, storicamente noi abbiamo sponsorizzato l'adozione dell'open source sulle nostre tecnologie. Questo lo facciamo in vario modo, sia certificando queste tecnologie sui nostri prodotti, ma anche portandoci come innovatori presso i nostri clienti nell'evoluzione tecnologica verso il mondo open source. Quindi supportiamo i clienti nella gestione del cambiamento verso tali tipi di tecnologie che riteniamo siano quelle del futuro, oltre che essere quelle attuali in alcuni contesti. Ed è estremamente importante supportare questo tipo di cambiamento, sia da un punto di vista tecnologico, e questo lo facciamo da anni, ma anche con una componente di servizio e progettuale che mira proprio a minimizzare i rischi e a raggiungere quegli obiettivi di trasformazione e di agilità che i clienti vanno cercando in questo momento. Con Red Hat avete in essere una relazione, una partnership tecnologica. Come si sviluppa? La partnership tecnologica con Red Hat è di lunga data. Sono più di 14 anni che collaboriamo con loro. Non è solo legata alla certificazione dei prodotti Red Hat sulle nostre tecnologie hardware, ma è proprio una partnership industriale che prevede lo sviluppo di alcuni filoni di soluzioni, congiuntamente con loro. Uno di questi casi è l'i-end Linux. Stiamo rilasciando il risultato proprio di un'attività congiunta di sviluppo per far sì che le piattaforme i-end Linux possano sostituire i sistemi legacy in determinate situazioni. E questo secondo noi sarà un fattore che accelererà ancora di più la trasformazione degli ambienti legacy verso il mondo open. Oltre a fare questo, entrambi siamo tra i principali sponsor del mondo open stack, quindi molti degli sviluppi che vengono fatti sul mondo open stack ci vedono collaborare perché HP e Red Hat sono tra i principali fautori di questo tipo di evoluzione. Per cui in molte situazioni HP e Red Hat collaborano insieme per favorire la trasformazione dei clienti verso il nuovo paradigma del cloud, qualunque esso sia, privato, pubblico, ibrido. Oggi ne abbiamo sentito parlare in modo diffuso e credo che proprio il fatto che due, vendo come HP e Red Hat, investano molto in questo tipo di tecnologie sia un segnale forte di come per noi la direzione sia tracciata.